Elisa Zanetti era importante partire con il piede giusto e l'Ele Piemela ha fatto una vittoria importantissima. Sì, abbiamo fatto un gioco importante, abbiamo avuto a casa tre primi importanti, e quando capire che il lavoro che stiamo facendo è molto buono, andiamo a limare gli aspetti e gli errori, però sono molto contenta della grida di questa squadra, molto giovane, determinata e che non molla niente. Un'Elisa Zanetti devastante in alcuni punti, per le difese avversarie quest'anno saranno dolori. Oddio, io guardo per il dopo partita, ovviamente la dottor parte c'è stato un avversario che studia, e siamo ora la prossima domenica. Una squadra che ha dimostrato di avere grandi doti, ma di avere anche ampi margini di miglioramento. Sì, abbiamo ampi margini di miglioramento, soprattutto di una straniera, che è sempre arrivata per una settimana, quindi è andato a trovare un po' di feeling con lei, anche neanche una struttura di gioco, però siamo molto fiduciosi per dire come ho detto prima, siamo molto giovani e contattavano di lavorare. Grazie e complimenti. Grazie.